Il mio padre è una persona interessante, ha fatto un'autodidatta, il signo, la fotografia, la scultura. Per esempio, ha fatto troppi fotografie con qualche apparato che l'occhia ha, è un apparato degli anni cinquanta, è una Rolleflex baby e mi ricordo che anche un po' piccola mi faceva anche le fotografie con qualche apparato, è un po' piccolo oggetto d'antiquariato di Jung-un-Cheux, comunque il mio padre ha tutta l'esperienza che ha il Madè, la togli per fare mille ore. E' un po' piccolo, magari 20 anni, e poi metti la carta d'apparati che fai, o altre installazioni di Jung-un-Cheux. A me piace che il passato, qualche, che adoro essere per me, per il mio futuro di Jung-un-Cheux.